eccoci ola eccoci in live, di nuovo su Gears of War allora, signor Frassica come sta signor Frassica? che cosa ci racconta? ma dai abbastanza bene siamo... stanno bene... cosa c'hanno i miei pappagalli? i tuoi pappagalli? i miei pappagalli eh, ah, nel becco ah, avevo letto il corso agli armamenti fondamentali... eccoci anziché sul fondamenta ho detto... perchè c'è anche quello modera ah, ma io ancora non sono dentro ancora non sono dentro non so usarla quest'arma l'ho usato solo nella campagna l'hoverkill ah, tu non sei ancora dentro? eh no, mi fa vedere voi però non sono ancora dentro ah, deve morire il bot eh, morite, muoio non io, il drone dello scione è che è morto adesso infatti eccoci qua sono la patata adorata ah, sì, ti vedo, ti vedo ma che arma non sapevo di avere questa mi sapevo di avere ancora quello di prima oddio alzatemi, alzatemi, alzatemi continui a schiacciare comunque, se continui a schiacciare a ti si... si rialza da solo ecco ok uff oella, mi hanno ucciso alla fine poppy goignard mi ha ucciso cosa? è poppy, è poppy poppy goignard ok c'ho di nuovo la patata adorata dai che arma è questa? buono si capisce oh crepa ah, ma sei tu questo che cattiveria eh sì, ero io oh, eccoli abbiamo un lancer adesso ma io ci muoio no, non ci voglio non ci credo mi hanno lasciato stare ci sei? ci sei? ah no io sono morto io oh, vediamo il signor Nino Frassaica che va a prendere una cassa ho il lancer dai nooo aiuto no niente sta andando malissimo questa cala di partita si occhio eh, no ok, via no, 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 no ah, il piano allora il nascer sono nel pompa, allora, apporte eh eh, ciao, è finita siamo nel pompa Cambio arma Elenforcer Schifo Chi ha urlato granata? Dove? Madonna che brutta morta Anch'io Sta che è persa questa Sì, sì, sì Sono un po' troppo indietro Più che altro vedremo la nostra testa salta Non ho nulla Sto vedendo Non ho nulla Non ce l'hai per davvero l'arma Ce l'hai sulla schiena Ah ecco Ah perché ho solo le forze Eh sì Ah perché te Ah no adesso ce l'ho nascendo Ah li cagliato Cambio arma Ma dai l'ho avuto per 30 secondi Ma no Eh perché ho fatto due uccisioni io Ma no guarda c'è l'arcobalino Eh la tua skin Eh hanno vinto loro Eh vabbè Che poi più carcobalino sembra una cosa sudamericana Non so Sì Eh era figo Allora Non è vero Dovrei avercelo tipo dorato forse Allora Bene città vecchia No Città vecchia Città vecchia Vabbè l'hanno votato tutti infatti Ah 76 monetine ho avuto Ah guarda se hai delle ricompense per corso degli armamenti Dovresti averle credo Anch'io ce l'ho Allora Ottieni 1500 punti in corso degli armamenti Eh non la vedo Eh 15 secondi Sì No in re della collina Eh se qui Eh no portafone No Eh vabbè fa niente Dai Po in re della collina E in zona di guerra Siccome non capita proprio spessissimo Ah sto vedendo che youtube mi ha tenuto purtroppo la foto Di garese mode Eh vabbè Dian se riesco da qua Eh questa è una modalità di garese mode Tu non lo sai Eh giustamente Eh in realtà In realtà Oh il mio game è abbastanza basso Eh no Non capisco se Se me l'ha tenuto o meno Ma mio dio ma chi è c'è C'è il resto del messicano Sì 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 Eh C'è la c'è la Francia Quella Quella skin Ah sì Era la skin che doveva metterla l'altro giorno Solo che non è riuscito a metterla Nooo Ma no Ok ho finito i colpi Ho bisogno di munizioni E ne ho due di colpi Ok Ok ucciso uno Oh l'arco Oh c'è nessuno qua Ho fatto il giro per nulla No Oh c'è Dixi C'è un personaggio di Dixi Oh me Ai Ma questi hanno ancora il boomshot No No l'ho mancato No Cacchio Ma dai Ho finito i colpi Ho finito i colpi Posso prenderlo Eh no Ma dai Vinto il migliore Signor frassica Allora Allora Perché a me mi ha shottato Eh Due colpi quando non erano due colpi Perché Ah io in questa modalità faccio schifo Perché si sottina la candera arma Sì anch'io sto facendo tanto schifo No più che altro Non capisco Non scappare una mazza Vabbè Eeeh Ho shottato Non mi ha fatto tre colpi Non ha fatto tre colpi Assolutamente non ha fatto tre colpi Ehm Eh nio E abissiamo già a lens Eh eh Beh alla prossima cambiamo Se c'è ancora corsa agli armamenti cambiamo Ma cosa? Ma cosa? Vabbè tre colpi Con quell'armetta lì Eh vabbè E anche io son morto Attenzione Ah Ma cosa? Cosa? Mi ha tirato giù che era morto Vabbè E vabbè Eh vabbè Sono già tornato a terra Ah da dietro Con lens e retaro Ce l'hanno fatta con lens Vabbè Sì e fa più danno Però devi fare le schiaie Che non fa Perché non riesco? Perché gli sto correndo contro Con lens e retaro Non lo uccido Per quale motivo? Per quale motivo? Gli stavo sbattendo contro Ma non lo uccideva Non lo infilzava Perché? Niente Ma lo uccideva Non dico niente Non dico niente Come sta andando lei la partita? Ma Direi che il caso Appena finisce Cambiamo modalità Sì Non si sentiva l'audio Eh vabbè No perché T'ho più penalizzante Appena mi abituo un'arma Cambia Ce la faccio io Che ci gioco Ti gioco A questa cosa Ah vabbè Sono col pompa Adesso auguri Ah Eh fuori io Eh Sono già morto Sono già morto Questi sono col cecchino Noi dovevamo farlo da Avvicinatissimi Loro no No dai Eh me l'ha già cambiato No Unmatch Oh l'ho ucciso E poi mi hanno ucciso Eh Gli ho bacchiato le palle Così che armai è adesso L'embar Devi caricarlo Bello Che tristezza Quando si è ucciso A noi chiamare Ronaldo E il pro Che tristezza Vabbè Eh Non so come funziona Quest'arma Devi tenere premuto Che carica E poi rilasci Quando arriva al massimo Se tieni premuto Troppo Si scarica Diciamo E devi rifare Sì ma non gli sto facendo nulla Delle armi del cavolo Eh vabbè Mi ho ucciso col coltellino Come ho fatto a morire Mi ha fatto 71% in due colpi Dove è il mio 30% di vita Scusa Ma non è Non è Ucciso 71% in due colpi E il restante Ma non è che No non è quello Si direi che si può uscire Perché dopo un 2.11 Un 2.8 direi che Torna almeno principale Continuano con corsa Eh aspetta come si fa Opzioni E esci di tornare almeno principale Aspetta ti invito io va Allora Versus No 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 aspetta Non sono in squadra con te Aspetta Ok Mamma mia Eh oui Ce l'hai quel papagallo Ti è arrivato l'invito Sì Ok Aspetta che controllo qua Eh Favij E' una giunta Abbiamo uno spettatore Ciao spettatore Ciao spettatore Favij E' una giunta Bene Ok Tanto facciamo partire Partita veloce sociale Sprengite l'ora di meglio Giunta Eh giunta Mammut Giunta E' un nuovo personaggio su Black Desert Online Ah sai che ce l'ho pure corsa agli armamenti E poi non me la mostrava prima Non so per te No no te lo mostrare te lo mostrava Probabilmente Te lo sei perso Monteggio di corsa agli armamenti Cioè no c'era proprio Boop Stano No no beh quello di sicuro non è che non te lo mostri Quello se ce l'hai c'è Te lo fa vedere Probabilmente te lo sei perso nel menu Capita Eh però può essere Nella fretta C'erano vinti tipo Sì sì Sperando che trovi una modalità decente Intanto possiamo ammirare Un bellissimo volto di una locusta Ho 2230 monetine Ho 2230 monetine Ella quante ne hai fatte? Eh Settecento e passa Non so perché Tutti in una partita Io ne ho fatte quattrocento Eh non lo so Che è successo? Sono stato più bravo Ma se non mi hai fatto cagare Ma che ne so Sono bevo Allora Dai gioco Immersione di Rambo Immersione di Rambo Cos'era il nuovo film In Vietnam Eh sì Rambo sottomarino Oh pacchetto preso Ah c'ho anche l'incremento retro La recluta da spacchettare Allora vai E Skin di Boomshot Boomshot di Ram Skin dell'Enforzer Adesso non mi sto trovando partite Skin dell'Enforzer Boltok Skin della Boltok E Generale Ram L'emblema Ah beh Incremento re C'è uno schifo Sì E vediamo Incremento recluta C'è Ucci la distanza Due minuti Ricerca Oh subisce meno danno sotto copertura Eh ma tanto ti serve solo nell'ordio Sì Punteggio guardiano Vabbè dai ho il coso Ho la carta verso Gioco Ci siamo Oh partita creata dopo due minuti e mezzo quasi Sì Adesso per entrare la stessa cosa Ehi No ci mette meno Ok deathmatch a squadra su Gloria Povera Gloria Gloria Viva alla Gloria Allora Eh Green Day Sì Pronti a finire la live Perchè? Eh perchè per poco Arrivano Gli zombie Non so Gli alieni Arrivano gli zombie O arrivano i Green Day Non ho capito Special guest Green Day Ehi video plus plus Viva 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 la Gloria C'era una canzone che mi ricordo Viva la Gloria Sì ce ne erano due in realtà Sì Viva la Gloria Viva la Gloria Viva la Gloria Little Girl Ma sto laggando un pochino Viva la Gloria Viva la Gloria Viva la Gloria No Sì sicura Sì Devo uccidere il cacchio di I Green Day Uccidere qualcuno Mi son perso qualcosa Devo uccidere il boat Una spia a boat Non uccidono il boat Non v'è che sono sempre io il boat Quello che deve prendere il testo del boat Ho ucciso una locusta Ma l'ho mancato Oh ecco è morto il boat No sono morto io Che è morto il boat Ero l'ultimo della squadra Mamma mia Dio E mi ha ucciso il cecchino dello sciame Oh ecco Ninoflassi Oh è bell' Ninoflassi Eh sì È n***a Solo dalla prossima partita abbiamo le le schiene particolari siamo andati tutti nella stessa direzione distruggiti è leggermente infloso oh guarda che tenevano la dietro avvicinati avvicinati oddio aveva il boomshot aveva il boomshot ahia ok controllando che un becchino vado dietro tempo di ammazzarne uno mi sono trovato dice ancora l'altro parca parca eh vabbè sono morto di nuovo ma non ho fatto niente che ti può vedere devi prendere la mano qua allora ah giusto qua stavamo parlando ieri no che delle granate velenose che c'erano in quelli vecchi qua ci sono quelle elettriche ah fanno un effetto diciamo simile anche se erano più belle quelle ah sei tu odore no io odore no no io sono e boomshot questo non l'ho visto assolutamente ma sempre boomshot eh perchè va solo va a prendere se noi non andiamo a prenderlo va a prenderlo spawna sempre nello stesso posto eh vado prenderlo vado prenderlo ma io non so dove sia per cui ok credo sia qua hanno pure hanno preso la torretta eh hanno tutto hanno tutto sono morto come uno scemo si però se non andiamo a prendere le armi nelle postazioni ovvio finisce così eh vabbè vabbè finchè giochiamo con oscar zombie che spara col pompa da tre chilometri vabbè vabbè bravo oscar beh dopo tutto erano zombie quindi cosa pretendiamo eh una vita si è una questa qua che muore adesso si sono 18 qua guarda qua ha fatto un miracolo si ha fatto il miracolo veramente adesso muore adesso muore ecco eh 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 beh ho saputo da fare eh 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 ma io e basta adesso vado a prendermi il moonshot so dov'è ok si si no subito adesso di corsa solo corsa via via ti seguo tanto muore e' un male lo stesso ah ecco eh eh beh io voto per lo stesso votiamo in pato giusto per non fare ancora corsa agli armamenti quando ho votato era pari cosa fai? no punteggio a zona di guerra se hai deathmatch a squadra e se no fai o punteggio aiuto fai quello che riesci a fare meglio io deathmatch lo stavo usando adesso si lo stai usando adesso ma perché era casuale tu adesso ah l'hai messo ah ok ok allora si si ero rimasto al fatto che avevi Marcus che volevi usare Marcus si si ma poi ho visto che avevo la carta di Dell ho detto impostiamo Dell ah ok ha fatto bene allora però non so quale Dell sia Dell 1 no no è uguale è uguale basta che sia Dell va bene qualsiasi skin di Dell ah ok si si anche per Marcus è la stessa cosa? per ogni personaggio basta che sia una skin di quel personaggio ah si si va bene adesso il tempo che carica e trovo l'ultimo giocatore per loro che se non è un giocatore è un bot abbiamo uno che sta lag no è passato da 200 a 30 non so come ha fatto Dping tu sei quello che sta andando peggio eh vabbè al solito come al solito si si vabbè diciamo che anche quello ha degli sbalzi di passato da 30 a 180 300 eh guarda guarda le magie se ne ha dei soffi di schermi si hai visto che c'ho Dell? eh andiamo vinceremo dico sull' segno eh andiamo vinceremo o cose eh domani magari allora adesso stiamo attenti che siano tutti insieme non si capisce una mazza perché siamo proprio un gruppone Che va a menar botte No, ci sono quelli che vanno pare in verso No, per il momento ne abbiamo ucciso uno Cosa è un altro? Era mio Me l'ha rubato Arrubatori Cosa è successo? No, no, li abbiamo fatti sfludere tutti Sì Eh, sono qua Non li vedo arrivare Aiuto Niente Poi mi è iniziato benissimo Adesso finisce malissimo Proprio così È sempre così Allora Pochi vingano a prenderci Oddio Hanno il bad skill Quello che tira le seghe circolari Diciamo Sì, sì Non lo ricordo Ok, però l'ho ucciso Oddio Prendi tu? No, non lo prendo io Non lo so usare bene Ok, quindi evito Ok, vai Ok, vai Dimmi se vuoi copertura che sto in zona, sono ma lontano No, no, no Senti Ok E torna al po' un po' allora Quanti ne ho ucciso? Un macello, un macello è fatto Non io, lui Ah no, no, ne ho 24 Mi colpi, l'ha lasciato cadere perché c'è la cosa fumogeno Ah, sì, sì È perché ti stordisce il fumogeno Eh sì Ok, io mi metto Mi fico qua Allora È qua dietro Sono qua dietro No, no, vabbè Non l'ho visto È arrivato il momento Che sono arrivato io Solo un attimo prima Sfortuna Ne manca uno Sì Non so dove sia Mi credo sia ben attento Ok, l'ha ucciso qualcun altro Ok, quel coso è poweroso Quel coso che lancia Il buzzkill, eh sì Sì Sì, sì Oh, dai Che perché Tutte le accensioni sono morti una volta Ha un raggio lunghissimo Sì, è ucciso colpo Quindi Ok, vado a prenderlo se riesco Eh, c'è già gente più avanti di te Ahia Ahia, ma Ah, hanno preso il cecchino Ah, lo vedo Ah, è mio Ah, no, c'è il tricolpo C'è il tricolpo Comunque qualcosa del genere Tu vuoi venire a prenderlo È in mezzo Dove mi ha ucciso? Eh, sono morto Ah, sei morto C'è l'ho fatto C'è qualcuno che ha preso l'arco Ah, brutto quello Eh, vabbè Sbagliato io Non ha già che sbaglio sempre il minigioco del caricamento Eh, questione di tempismo Eh, me ne dimentico quando fa la ricarica automatica Sì, è totalmente abituato che Mi è naturale Mulcher, ma non so che cosa sia Ah, ok È la Gatwing Ecco, tanto mi hanno fatto trovare subito come al solito Ecco, mi hanno fatto da dietro Io sono ucciso, ucciso lui Sì, t'ho visto, solo che è stata una frazione di secondo Ho girato l'angolo, ho visto lui che ha ucciso te Gli ho sparato io E ci siamo sparati a vicenda, praticamente Tutto in una frazione di secondo Ahia Oh Ho sbagliato Ho sbagliato due volte Ho sbagliato troppe volte Ho sbagliato tutto Tutto, ho sbagliato tutto Tutti i colpi Ah 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 Dai, al C'è ancora un mulcher se lo vuole Sì, l'ho visto L'ho detto di te con la telecamera Adesso sto arrivando ma Non so se riesco a prenderlo Dov'era? Allora, eccolo qua E devo cambiare Sto prendo Ehm, qua Mouse Da controller Qua L'ho alzati l'altra volta Ma non Trovo solo peggio La sensibilità Allora Vediamo un po' Ne rimangono due di loro E là Distrutto No, peccato Adesso mi uccide Ah, mi ha preso come ostaggio E' che è ancora peggio Eh, già Come si fa? Con che tasto? Eh, aspetta Non si sa Ok, l'ho ucciso Eh, non mi ricordo Sicuramente Qua è Liene Automatico Quando c'è uno che striscia Comunque lo Ti viene fuori l'indicazione Capito Ricompensa Vittoria Dell'1 E vai Oh, Ruder E' della collina Assolutamente E' della collina Finiamo la live qui Va bene Sennò Dai Dai Alla prossima Tanto per poco Devo andare Ah, va benissimo Allora Va bene Alla prossima A martedì Credo Ciao 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 ciao